Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova parte di Pokémon Ultraluna Wi-Fi Battle, albero della lotta, lotta in cup. Prossima lotta, sempre i remonti con Gengar, Kartana, Lycaroc e Mosdy. Abbiamo contro uno Slowking, un Kangaskhan, un Wismiscot e un... come si chiama quelle cose? Non mi ricordo il nome di quei Pokémon. Quella specie di colonna di fiori, ok? A tra poco la lotta. Benissimo, prima lotta. Ecco, Comfy, ecco come si chiamava. Comfy e Slowking, saranno i nostri avversari, noi mandiamo in campo Gengar e Mosdy. Qua Gengar ci va ancora con la sua Mega Evoluzione, che diventa una potenza assurda, Mega Gengar e ci va di fulmine, su Slowking. E fa un buon danno anche se toglie meno di metà vita. Confy ci va di tergipalla, fa un buon danno il mio Mosdy. Io ci vado di peso bomba e distruggo quel confy. I miei Mosdy non perdono mai. Qua Slowking ci va di psico-shock, distruggendo la nostra Mega. E ci lascia. Ora qui, Monti ci va di Cartana. E lui mi fa di Wismiscot. E ci va di Masibrillio. Io leggo con 9 ps e Cartana legge molto bene. Ci va di Fabric X, oltre me ne ho noto, è più di metà vita. Cartana ci va di Fabric X, distruggendo Slowking. Ora siamo in vantaggio noi. Si attiva l'abilità di Cartana Ultra Boost. Io ci vado di peso bomba e distruggo quel Wismiscot. Perfetto. Dovrà mancare un Pokémon nel nostro Versailles, che è Kangaskhan. Forse non è 3 contro 1, dovremmo riuscirci. Qua ci va di Buccia Velo, ma non anche io il mio Mosdy. Ora io, il Cartana ci va di Eterolama, posendo qualche ps a Kangaskhan. Io ci vado di Licorock, forma di Cepuscola, che è la mia preferita. Quella più forte, ci vado di Pietrataglio. E lo devasto. No, in realtà c'è una Mossa Z che non posso vedere per copiare, altro poco. C'è un dato di Mossa Z sul mio Licorock che mi ha tolto metà vita. Ora qua in realtà ci va di Fendifoglia, aggiudicandoci il match. Perfetto. Un'altra vittoria per noi. Benissimo ragazzi. Io vi ringrazio per la visione di questo video, vi fate un commento, mi piace se non vi... Ciao ragazzi, un saluto da Mattia e due Emovi.